e salve a tutti ragazzi oggi finalmente andremo a parlare del nuovo battlefield battlefield 5 battlefield bad company 3 ancora non si sa nulla però sappiamo che venerdì prossimo quindi il 6 di maggio alle 10 orario italiano verrà appunto presentato il nuovo battlefield quindi sicuramente avremo qualche informazione in più in vista dell'evento delle 3 di iei che si terrà invece il 12 giugno dove sicuramente vedremo anche video di gameplay una data di lancio ufficiale o magari la data di un eventuale beta ovviamente sarò qui per parlarvi di questo di questo evento non appena ci saranno delle notizie in più infatti molto probabilmente dovrebbe uscire anche qualche teaser a breve ovviamente sarò qui per parlarvene non vedo l'ora anche perché come avete notato qui sul canale non sto caricando più nulla perché non c'è più niente da dire su battlefield hard non ci sono notizie riguardo qualche eventuale dlc aggiuntivo e quindi appunto questo questo annuncio calza proprio a pennello appunto per riavvivare un po il mio canale ovviamente appena si saprà qualcosa vi ripeto lo sarò qui per parlarvene magari fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa vi aspetterete dal cosa vi aspettate dal nuovo battlefield magari ne parliamo insieme e niente ragazzi ci vediamo alla prossima e salve a tutti